Un gruppo di lavoro individuato dalla regione Abruzzo risultato tra i sette vincitori di un progetto sperimentale finanziato con fondi PNRR per una nuova frontiera della mobilità relegando l'uso dell'auto privata come ultima scelta. Grazie a questo progetto gli utenti possono accedere a un'unica piattaforma attraverso il proprio smartphone beneficiando di una vasta gamma di funzionalità e di un sistema di pagamento unico. Il responsabile del progetto Francesco Cotellessa. L'acronimo MAS che significa Mobility as a Service quindi la mobilità nel corso di questi dieci anni cambierà e diventerà appunto mobilità come servizio quindi non ci saranno tante ricerche di tante possibilità diciamo di andare ad intercettare il vettore per poter effettuare un viaggio ma ci sarà praticamente un'idea di viaggio che verrà studiata dalla piattaforma per dare a tutti la possibilità di avere questo viaggio con tutti i più idoni operatori in una sorta di intermodalità per arrivare anche alla mobilità dolce quindi si partirà per esempio treno, autobus dove occorra e si arriverà al car sharing, al bike sharing oppure allo scooter sharing. Come dire un modo di pensare di più e meglio al mondo in cui viviamo. Da qui la collaborazione con Lega Ambiente che questa mattina prima dell'incontro ha dato il via al fine settimana di Puliamo il Mondo. Silvia Tauro questi ragazzi magari non avranno pulito il mondo però si tratta di un'iniziativa di Lega Ambiente molto importante e che tra l'altro va avanti da oltre 30 anni. 32esima edizione di Puliamo il Mondo i ragazzi no non l'hanno pulito ma sicuramente danno una dimostrazione di quello che dovrebbe essere fatto anche oggi per i ragazzi è stata un'esperienza rendersi conto di quello che vuol dire prendersi cura del bene comune e soprattutto di quello che troviamo abitualmente sulle nostre spiagge nei nostri parchi ma non in questo caso ma anche nei sentieri di montagna e rendersi conto quindi che è un dovere di tutti contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.